Qualche giorno fa uno di voi mi ha scritto Ciao, ti volevo chiedere siccome ho installato Kali Linux però non riesco ad installare nessun programma in quanto mi dice che mi mancano delle dipendenze ma non so come fare se puoi darmi una mano grazie e soprattutto la stampante mi servirebbe ma sono a zero. E la prima cosa che mi sono chiesto è perché dovresti voler installare una stampante su Kali Linux? Poi mi sono ricordato che una marea di gente lo usa come sistema operativo principale per uso quotidiano incontra problemi che con altre distribuzioni non avrebbe avuto e mi viene a scrivere. Seriamente, negli anni ho collezionato innumerevoli messaggi come questo richieste di aiuto per ogni genere di problema legato alla quotidianità. Quello che la gente sembra non capire è che Kali Linux non è un qualche genere di miracoloso strumento per diventare hacker in sette giorni ma soltanto il coltellino svizzero dei penetration tester e credimi, avere un coltellino svizzero non fa di tempo i scout. Sì, ci sono però i buoni intenti e molti lo installano per imparare, no? No, sbagliato! Avvicinarsi a Linux con Kali è un autogol gigantesco così come usarlo come sistema operativo tuttofare. E perché? Ti starai chiedendo. Facciamo un salto sulla documentazione ufficiale di Kali Linux e scopriamoli insieme. Dovrei usare Kali Linux? Qui ci viene spiegato che si tratta di una distribuzione a cui sono state apportate diverse modifiche per essere più facilmente integrabile con i tool di penetration testing che fornisce preinstallati e vengono stilati quattro punti fondamentali. Numero 1. Utente singolo, root per design. Qui ci viene spiegato che molti degli strumenti preinstallati hanno bisogno di eseguire come root e quindi la decisione di lasciare un solo utente come root per default. E che è ottimo per l'uso per cui pensato ma avete idea di cosa significa eseguire ogni programma come utente root? Anche il browser web? Se da qualche parte c'è una vulnerabilità o finite con l'eseguire codice malevolo non state limitando i suoi effetti ai privilegi standard di cui è capace il vostro utente. Eseguendolo come root il malware avrà accesso completo e incondizionato all'intero sistema operativo. Potrà scavalcare i permessi del file system leggendo e scrivendo in zone riservate i dati sensibili. Potrà scavalcare i driver attivando ad esempio la webcam senza accendere il led di attività oppure mettersi in ascolto sui microfoni o perfino azzerarvi il disco con una scrittura bit a bit con dd. Cosa può andare storto insomma? Punto numero 2 Servizi di rete disabilitati di default Questo è comodo per hackerare le reti wifi ci risparmia la briga di fermare i servizi manualmente ma per l'uso di tutti i giorni? Il bluetooth viene blacklistato di default Il network manager e altri servizi comodi per la vivibilità potrebbero essere limitati o disabilitati Il DHCP? Chissà Probabilmente funziona Non lo so Quindi non scrivetemi se su Cali non vi funzionano alcune di queste cose Punto numero 3 Il kernel Linux personalizzato Nemmeno il kernel è standard Contiene patch per abilitare la modalità monitor sull'interfaccia di rete Comoda per... Sì insomma avete capito Ma nell'uso quotidiano? Poiché il kernel è modificato Alcune funzionalità potrebbero non essere abilitate di default Alcune periferiche potrebbero perciò non funzionare E potrebbe essere necessario ricompilare il kernel Sempre ammettendo di sapere cosa dobbiamo toccare Cosa dobbiamo abilitare Per far funzionare tutto quello che vogliamo e come lo vogliamo Ed è generalmente molto più una sbatta di quanto non vorrei io Punto numero 4 Un set di repository minimale e fidato Sapete cosa sono i repository vero? È da lì che vengono scaricati i software Che decidete di installare sulla vostra distribuzione Ogni distribuzione ha i propri repository E spesso non sono molto diversi l'uno dall'altro attraverso le varie distribuzioni Fatto salvo che hai per minime personalizzazioni che possono subire alcuni pacchetti Per funzionare meglio su una distro piuttosto che su un'altra E nel caso di Kali stiamo parlando di un sottoinsieme ridotto e non sempre aggiornatissimo Di tutto il software generalmente disponibile per Linux Ecco perché alcuni si lamentano di non riuscire ad installare un determinato software O driver sulla propria Kali Insomma, siete davvero sicuri di voler installare una distribuzione insicura Scomoda, con possibili problemi nel supporto hardware E un set di software installabili ridotto e a tratti obsoleto? Morale? Kali Linux è una distribuzione da eseguire in macchina virtuale Nessun esperto di sicurezza la userebbe mai come distribuzione principale E gran parte dei tool preinstallati su Kali sarebbero comunque installabili senza problemi Anche su qualunque altra distribuzione E qualcuno di voi in questo momento potrebbe chiedersi Ok, ma se io volessi diventare un esperto di sicurezza informatica Installare Kali è comunque la cosa migliore, no? No Principalmente per le ragioni già discusse sopra Lascia stare Kali al momento della sperimentazione Ad esempio se non vuoi sporcare, tra virgolette, la tua distro con dei tool specifici che poi vuoi testare Ma magari vuoi una macchina virtuale con quelli già preinstallati insieme a tutto il resto Però quando hai finito, chiudi la macchina virtuale e torna alla tua vita Se davvero ti interessa la sicurezza informatica Dovrai prima capire come funzionano i sistemi operativi Per cominciare, leggiti un libro Segui un corso universitario sui sistemi operativi se hai tempo Sono ad accesso libero e l'università è pubblica Qualsiasi cosa, ma tieni per ultima la fase del coltellino svizzero Perché non stai davvero imparando la sicurezza informatica Se impari semplicemente a lanciare degli attacchi automatizzati scritti da altri Ad esempio Hai mai sentito parlare delle ACL in Linux? E di C-Linux? E di Suid? E delle Capabilities? Molte di queste cose non le troverai in Kali Perché non c'è granularità sui permessi Qualunque altra distribuzione più o meno le ha Anche Android usa C-Linux Bene ragazzi, questo è tutto Spero di non aver offeso nessuno per davvero È solo il mio modo di esprimermi, si capivano? Sono davvero curioso di sentire la vostra su questo spinoso argomento Che ne pensate? Perché avete scelto Kali? Qual è la vostra storia? Successica prima Che sentite el mio modo di esprimermi, si capivano? Grazie a tutti